Chiudete gli occhi e immaginate di essere seduti al tavolo di un pub con la vostra birra e i vostri amici. Sentite le voci vicino a voi, alcune giovani e altre più vecchie, che stanno parlando di un argomento a voi familiare. Decidete di prendere la sedia e avvicinarvi un po' per sentire meglio, fino a quando vi chiedono se volete aggiungervi al tavolo di Cavatappi. Oggi il tavolo è una festa, o meglio, un festival. Insieme ai nostri due ospiti, Katia Trinca-Colonel e Riccardo Soriano, appassionati di giornalismo e impegnati negli ambiti dell'informazione, esploriamo la macchina organizzativa di due festival locali per scoprire come e perché le persone sono così affascinate da eventi dove ad accomunare il pubblico sono libri, personaggi, pubblici oppure più semplicemente passioni condivise. Io sono Tinez. E io sono Fritz. E questo è Cavatappi, il podcast che stappa la mente. Iniziamo allora a conoscerci un po' meglio, do qui il benvenuto ai nostri ospiti e vi chiederei allora di presentarvi un po' di cosa vi occupate nella vita e poi di presentare festival di cui vi occupate e quali sono gli obiettivi magari dei festival che organizzate, i Fuori Fest e il Glocal. Partiamo da te Katia. Partiamo da me, sì. Che sono la, diciamo, la boomer della situazione. No, no, no. Anche se ho sentito Manuel Agnelli dire che in realtà i boomer arrivano fino al 64 e poi dopo c'è la generazione Z, quindi magari... Qua dentro il boomer rimane Andrea Ficchieri. Ecco, va bene. Ok, no, quindi sì, ho un po' di esperienza nel mondo del giornalismo perché ho cominciato tanti tanti anni fa, ormai 20 praticamente anni fa al Corriere di Como e poi ho continuato facendo esperienza anche a L'Ansa. Facevo appunto la corrispondente dell'Ansa di Milano per il Basket Cantu e quindi quando ancora le partite si raccontavano e non si vedevano in diretta streaming io facevo il bel tabellino con i risultati, raccontavo la cronaca della partita in 20 rigorosissime righe. Questo per dare un po' l'idea di quanto è cambiato, no? Questo lavoro. E ora invece collaboro con la provincia di Como, scrivo per Diogene e sono l'adetta stampa del Centro di Servizio per il Volontariato dell'Insubria di Como. È un ente del terzo settore che praticamente sostiene le associazioni in vari modi sia da un punto di vista di organizzazione, di amministrazione, di supporto nella ricerca dei volontari e io in particolare mi occupo di comunicazione. Quindi sono entrata, diciamo, a far parte del team che organizza questo festival del giornalismo che si chiama Glocal e che si tiene tutti gli anni a Varese proprio attraverso il mio lavoro al CSV perché Glocal era interessato anche a esplorare quel mondo del giornalismo legato un po' al sociale e a tutto quello che è appunto tra virgolette le buone notizie che sono quel campo del giornalismo che sta sempre prendendo più piede perché secondo me è anche venuto il momento di superare quella logica che sembra secondo me una cosa necessaria ma che in realtà non lo è delle famose tre S quelle che tengono sul giornalismo sesso, sangue, soldi che sono le cose più lette più macinate, più cliccate e invece per fortuna quello che ci circonda non è soltanto caratterizzato da tragedie, sciagure, guerre ma ci sono anche tante cose interessanti da raccontare soprattutto per quello che riguarda il cambiamento, il cambiamento sociale il cambiamento economico e quindi all'interno di Glocal di questo festival del giornalismo mi hanno interpellato proprio per provare ad organizzare dei momenti di incontro di riflessione su questo tema poi se volete vi racconterò poi qualcosina di più certo, volentieri il nome? ha una derivazione particolare ma secondo me è la fusione di locale e globale che è poi il mantra degli ultimi anni è questa globalizzazione che però deve fare i conti anche con quello che è locale ma poi paradossalmente nel tracollo a cui stiamo assistendo di vendita di giornali che praticamente sta caratterizzando tutte le grandi testate le piccole testate quelle locali ancora tengono questo perché? perché le persone sono interessate comunque a conoscere quello che succede nella loro comunità nella loro città nel loro paese e quindi giornali appunto come la provincia di Como come alcuni settimanali come il giornale di Cantù il giornale di Erba vendono vendono parecchio ha buttato un paio di settimane fa da mia nonna un giornale di Cantù del 94 bello vecchio un cimelia praticamente comunque sì è ancora cioè è importante questa attività di informazione sul territorio che è un po' quello che mi sembra voglia fare Glocal appunto e per questo il contributo del centro servizi per il volontariato può essere importante assolutamente importante sì tra l'altro ecco il centro di servizi per il volontariato dell'Insubria accorpa Como e Varese e quindi mettendo insieme due città che sono ovviamente hanno storie diverse hanno una caratterizzazione anche geografiche differenti però da tutte e due questi bacini da tutte e due queste province emerge veramente un mondo di terzo settore che è ricchissimo associazioni cooperative ma anche associazioni informali cioè di spesso anche di giovani che si mettono insieme senza una struttura per forza codificata che deve essere iscritta al registro poco come noi qui di Cavatappi come voi come fuori fuoco esatto ma che è fondamentale perché è il contatto con quello che è il mondo appunto di un mondo che è in trasformazione e che ha dei bisogni e delle esigenze che non sono più quelle di vent'anni fa anche solo di dieci anni fa e quindi è importante coinvolgere anche questi tipi di linguaggi questi tipi di diciamo così di persone ecco bene quindi Riccardo mi sembra che l'obiettivo si colleghi direttamente a quello che fai tu con i tuoi compagni esatto e vabbè mi presento anch'io brevemente sono Riccardo Soriano 22 anni nella vita studio in magistrale scienze storiche un po' come il mio dirimpettaio qui Andrea Fece qualche tempo fa anch'io in realtà da qualche mese ho cominciato quando Paolo Moretti si ricorda a collaborare con Diogene e no è da pochissimo tempo poi anche con con il settimanale della diocesi anche di maniera un po' saltuaria però quando ci si ricorda vicendevolmente che si esiste qui in realtà sono in veste di diciamo redattore e membro di un collettivo giornalistico che si chiama Fuori Fuoco e che è nato a Como a Como nel 2019 per cercare un po' di rispondere a diverse esigenze alcune un po' personali anche di di chi si mese in gioco per costruire il collettivo e alcune più legate alla città cioè prima di tutto Tommaso e Clara che sono i due ragazzi che presentarono il progetto e lo vinsero poi all'interno del bando Youth Bank avevano un po' l'obiettivo di creare dei percorsi di formazione in campo giornalistico in modo da sopperire non so a master professionalizzanti che spesso sono anche un po' onerosi da un punto di vista economico e quindi cercare di crearsi una formazione che potesse essere diciamo cucita sul territorio e anche più alla mano però comunque di qualità e poi con l'idea di creare un insieme di persone un collettivo all'inizio ci chiamavamo laboratorio di giornalismo partecipato che lavorasse sul territorio e portasse un linguaggio innovativo e l'abbiamo fatto poi nel 2021 in realtà perché di mezzo c'è stata la pandemia abbiamo pubblicato un primo lavoro che era incentrato sul lago un web doc che è un po' una piattaforma che mette insieme diversi linguaggi comunicativi si chiamava lago della bilancia perché siamo molto spiritosi e parlava diciamo di economia società diciamo ambiente in relazione al lago e poi siamo andati avanti in realtà Fuori Fuoco doveva essere un progetto temporaneo che poi dopo si è strutturato e ha dato vita poi a un festival giornalistico che è arrivato alla sua seconda edizione che è Fuori Festi di cui parliamo parliamo a breve in realtà cioè io mi ricollego a quello che diceva Katia nel senso che anche noi abbiamo deciso diciamo per principio di avere un forte radicamento territoriale in realtà anche con dei dibattiti interni perché sì siamo tutti di Como ma non siamo tutti a Como anzi la maggior parte delle persone che fanno parte del collettivo sono un po' disperse in giro per l'Europa e altri continenti però cerchiamo comunque di portare avanti una narrazione basata sul locale per cercare di evidenziare quali siano i risvolti di tematiche globali esatto di tematiche generali sul nostro contesto diciamo di appartenenza e cerchiamo di farlo anche privilegiando il metodo del giornalismo lento che è quello un po' che guarda all'approfondimento dei contesti e non specificatamente alla cronaca un po' per principio ma anche un po' come esigenza perché insomma siamo dispersi e quindi chiaramente il tempo che riusciamo a dedicare è quello che è e cerchiamo un po' di insomma di metterci molte idealità in quello che facciamo ecco mettiamola così un po' Katia ci hai già un po' anticipato l'apporto che porta appunto il CSV dentro il Glocal avete altri obiettivi come il magari praticamente quest'anno come è stata la collaborazione tra Glocal e il CSV e come è anche andata e qual era il tema di quest'anno sì allora io sono la seconda edizione che seguo per quanto riguarda appunto la parte della proposta di CSV l'anno scorso il tema perché ogni anno il festival ha un tema era il limite e mi hanno chiesto di pensare a dei contenuti e degli ospiti che potessero analizzare questo tema e abbiamo discusso di una questione che è sempre molto delicata che è quella del rispetto delle persone di cui di cui si scrive mi spiego meglio spesso raccontando quello che succede intorno a noi perché è quello che fa il giornalista è osservare cercare di capire il cambiamento intercettare le storie delle persone quello che può essere il limite è quanto in là mi posso spingere nel raccontare una storia cioè quanto è importante rispettare la persona e bilanciare questo interesse nella sua storia con il rispetto magari comunque di una privacy di un'intimità di una sofferenza e ci sono stati punti di vista molto differenti su questo qualcuno dice vabbè fare il nome il cognome di una persona non è detto che sia sbagliato perché è comunque un modo anche per quella persona di far sapere che io esisto io ci sono io ho passato questo ma adesso l'ho superato oppure per valorizzare pensiamo non so a un ex detenuto pensiamo a una persona che ha una disabilità una persona che ha attraversato una malattia e e quindi ecco trovare l'equilibrio tra il desiderio sano naturale anche di far conoscere una storia che è finita bene che si è conclusa bene o comunque evidenzia dove in un cammino difficile si è trovato un appoggio un sostegno un aiuto e quindi permette anche di capire dove intervenire come perché con appunto l'esigenza anche però di rispettare cioè di non fare quella famigerata pornografia del dolore che purtroppo vediamo spesso in tv e vi ascoltiamo in tutte le salse quindi ecco questo è stato per esempio un tema e quindi abbiamo invitato alcuni giornalisti proprio anche professionisti a discutere di questo e ci siamo confrontati anche con una professoressa di sociologia che ci ha dato invece un po' la lettura più così umanistica e scientifica invece quest'anno il tema era visioni e pensando quando l'abbiamo costruita eravamo ancora nel pieno della guerra in Ucraina poi nel frattempo ne è arrivata pure un'altra e abbiamo pensato alle visioni di pace e come il giornalismo può raccontare l'aspetto umanitario della guerra cioè sempre riferendomi al terzo settore tutte quelle associazioni quei volontari quelle realtà che sono partite a volte anche un po' alla cieca per andare ad aiutare le popolazioni toccate e colpite dalla guerra quindi abbiamo invitato la stessa vostra collega Martina Toppi che ha fatto un bellissimo racconto del suo viaggio Magal che ce ne ha parlato qui anche in una puntata esatto sono venuti i ragazzi di un abbraccio per Magal sono venuti ospiti hanno raccontato uno dei ragazzi la loro esperienza la loro avventura che continua anche perché continuerà perché hanno intenzione di andare avanti è stato interessante sentire il racconto proprio di questo così di questa anche sua personale scoperta di un luogo così duro così difficile e trovare anche in questo il risvolto diciamo così deontologico cioè fino a quanto io posso mi posso spingere nel mostrare la sofferenza di un minore fino a quanto mi posso permettere diciamo così di essere cronista e non di essere prima ancora di essere una cronista una persona io ricordo brevemente vi racconto questa cosa perché a me aveva colpito moltissimo ed è sempre stata un punto fermo nella mia vita diciamo così di giornalista ed era un'esperienza che aveva raccontato Tiziano Terzani un grandissimo grandissimo giornalista inviato di guerra quando si era trovato in Cambogia durante la fuga della popolazione terrorizzata perché voi sapete la storia un po' della Cambogia Iqmer Rossi poi la liberazione Polpot eccetera e lui a un certo punto è l'unico giornalista uno dei pochi giornalisti se non forse l'unico che si trova nel mezzo di questa fuga di questa popolazione civile e deve raccontare per il suo giornale quello che vede ma a un certo punto dice io non ce l'ho fatta più io ho smesso di guardare pensando a quello che avrei dovuto raccontare e mi sono messo ad aiutare queste persone che svenivano in mezzo alla foresta perché non avevano le forze per uscire e arrivare nel luogo sicuro quindi ho cominciato a fare avanti e indietro portandomi sulle spalle queste persone sapendo che per quelle che prendevo ne lasciavo altre due che sarebbero morte quindi un'esperienza terribile che dà l'idea di come prima ancora che giornalisti bisogna avere la sensibilità di essere delle persone e quindi a volte ecco il cinismo di cui si sente parlare del mestiere del giornalista mi fa sempre un po' paura i social hanno un po' amplificato questo limite sempre più difficile da mantenere sì sì è vero sulla cronaca nera forse è ancora più evidente questo ma in generale è un tema molto è verissimo che quando uno si trova testimone di un evento fare raccogliere il video potrebbe anche essere una testimonianza storica importantissima pensiamo al Bataclan quando c'è quel da un condominio si affaccia qualcuno e filma la fuga di questi ragazzi che si lanciano giù dalle finestre e degli stessi terroristi è una testimonianza che rimarrà per sempre una testimonianza storica però allo stesso tempo cioè non lo so questo giornalista ha avuto un grande sangue freddo io non lo so forse sarei scesa e sarei andata in strada a chiedere quindi questo vuol dire che io non sarei mai stata una bravissima non sono mai stata una cronista di nera e non lo sarei mai stata cioè mi viene sempre in mente documentare sull'11 settembre cioè le immagini di quei giornalisti che sono lì sotto le torri cioè cosa fanno che filmano sì sono lì a filmare con il loro videomaker e dicono cosa faccia no penso sia un tema veramente veramente interessante immagino che sono passate alla storia che sono state fondamentali anche in quel momento lì perché hanno permesso a tutti gli altri costruzione di una natazione dall'altro canto si considera come probabilmente i terroristi abbiano studiato quel cioè l'idea di poter mostrare apposta al mondo quel momento lì esatto per poter amplificare anche quello quello che loro facevano cioè aver ripreso le persone che si lanciavano si buttavano dalle finestre dal 80esimo 90esimo non so quanti piani fossero le immagini delle persone molto di più infatti che cadevano nel vuoto e i video le riprese dei vigili del fuoco che erano a piano terra e si sentivano i colpi mi è sempre lasciato un po' sì credo che poi l'equilibrio si riesca a trovare però sta sempre poi alla coscienza della persona che in quel momento sta ricordo che Martina che ha registrato il podcast per la provincia sull'omicidio di erba della famiglia come si chiamano se sincero ci raccontava che si poi taglieremo della strage di erba della strage di erba esatto di Castagna infatti c'è anche persone che conoscono ad Albavilla mi raccontavano proprio queste persone che conosco che sono venuto a sapere che conoscevo Martina che mi diceva no farli sapere che siamo veramente siamo rimasti colpiti dalla dal modo in cui ha raccontato la storia cioè proprio l'essere non raccontarlo in maniera cruda ma cercare di di entrare in empatia ma rimanendo comunque senza entrare dentro e probabilmente il podcast aiuta questa cosa perché non c'è il video quindi c'è un pochino rimani un po' indietro però rimane comunque difficile perché le parole hanno un peso sia che tu le scrivi sia che tu le dici a voce e quindi questo il tema qua è un tema veramente sì è un tema che ci interroga sempre dove non esatto dove non trovi una risposta non c'è una risposta definitiva però è utile porsi la domanda assolutamente per forza sennò poi perdi qualcosa anche da giornalista anche pensando proprio a come sono cambiate le modalità di raccontare fuori fuoco giustamente dice noi ci esprimiamo attraverso i video i social attraverso i social perché perché è il nuovo linguaggio e non è neanche giusto demonizzarlo tutto sta a come lo si utilizza a chi lo utilizza come lo si utilizza quindi va benissimo mescolare i linguaggi non possiamo pensare che un giorno la carta non scomparirà un giorno la carta scomparirà non fosse altro per salvare le povere piante che vengono tagliate ma anche perché i linguaggi cambiano pensiamo appunto adesso c'è addirittura a chat GPT che ci scrive gli articoli direttamente senza neanche sforzarci di pensarli a me inquieta tantissimo e anche questo apre un infinito mondo di riflessioni quindi diciamo l'etica mi pare di capire se si può chiamare così l'etica dell'informazione è stato il contributo forse alla base di CSV in questo appunto festival che si è che si è svolto tra l'altro non molto tempo fa sì sì a novembre esatto a novembre per quanto riguarda invece fuori fuori fest qual è stato il tema alla base del festival che anche questo si è svolto a inizio novembre quindi è passato poco tempo tra l'altro l'anno scorso avevamo fatto in concomitanza con Glocal senza saperlo esatto e quest'anno quest'anno infatti poi abbiamo modificato le date cambiato le date siete portati via gente a vicenda non penso quest'anno quest'anno non ci siamo curiosità poi magari parliamo anche del pubblico età media di voi come gruppo allora siete molto giovani giusto sì anche per dire un po' quello che diceva adesso Katia cioè del linguaggio che come gruppo utilizzate e che io direi tendenzialmente 25 in realtà ci sono fino a non molto tempo fa io ero il più giovane adesso invece sono stato scalzato da un ragazzo del 2003 e poi ci sono dei ragazzi che invece vanno 28-29 se non sei del 2005 sei vecchio ormai lo sappiamo un ragazzo insegno ai 2014 insegno ai 2014 come ai 2014 sapete che nel nostro paese ciò che succede per il calcio detta legge sabato 25 novembre un ragazzo del 2008 ha esordito in Serie A quindi tutti gli altri sono vecchi va bene quest'anno il tema è stato futuro l'anno scorso invece avevamo deciso di impostare il tutto sul filo conduttore della comunità perché uscivamo dalla pandemia e quindi volevamo un po' dopo diciamo l'acceleratore di processo che è stata la pandemia in termini proprio di atomizzazione dell'esistenza individuale e anche di sgregazione della coesione sociale in un certo senso ci siamo detti portiamo come come vessillo diciamo quello della comunità e cerchiamo di invitare degli ospiti e costruire degli eventi che possono avere questo come come perno quest'anno invece diciamo abbiamo deciso un po' di entrare a gamba tesa in un tema che è molto sfaccettato perché cioè unanimemente abbiamo deciso che sarebbe stato futuro con poco dibattito ecco però chiaramente con con la specificazione che avremmo dovuto anche cioè diciamo non parlare di futuro in una maniera che fosse necessariamente positiva e propositiva ecco ma anzi cercando anche di evidenziare le criticità le angosce che soprattutto per una persona giovane in questo periodo storico probabilmente parlare di futuro diciamo suscita e quindi questo è stato il filo conduttore futuro chiaramente anche in termini formali dove per ricollegarci anche a quello che si diceva prima dove questa professione giornalistica sta andando che nuovi linguaggi sta abbracciando quali sono i problemi che si pone davanti e via discorrendo e quindi sia da un punto di vista contenutistico cambiamenti climatici conflitti lavoro abbiamo parlato molto di lavoro sia da un punto di vista di forma abbiamo cercato di tenere tutto insieme dietro dietro la questione del futuro per ricollegarmi a a una delle cose che dicevamo prima magari dando un colore un pochino diverso uno degli incontri che mi è rimasto di più del festival che abbiamo fatto è stata questa tavola rotonda cui abbiamo chiamato due ragazze di scomodo che è diciamo un giornale anche lì Under 35 che è nato a Roma e che ha una relazione a Roma e una a Milano e che diciamo si occupa diciamo di tematiche varie però insomma che ha un'impronta giovanile Francesca Bubba che è una giornalista che si occupa di maternità e poi Davide Del Monte che è di un collettivo che si chiama Infonoz e anche Marzio di Lumen amico che ha un progetto simile a Fuorifuoco in quelli del Trentino e niente l'idea era cercare di parlare del limite tra il giornalismo e l'attivismo cercare di capire qual è il confine e quanto effettivamente lo sguardo del giornalista o della giornalista sia possa essere effettivamente oggettivo e quanto effettivamente poi invece non scatti l'esigenza di scrivere per cambiare il mondo circostante e sono emerse delle cose molto molto interessanti in termini proprio di quello che il giornalismo può rappresentare anche come serbatoio di contenuti per chi poi effettivamente li prende in mano per cercare di attuare un chedi trasformativo nella società e anche un po' in termini di quanto effettivamente questa professione sia sostenibile economicamente quanto effettivamente diciamo l'attivismo anche all'interno non so di questioni con una questione salariale o cose di questo tipo possa essere cioè perché sembra effettivamente così complicato soprattutto per questa professione cercare di mettersi insieme per trasformare le cose il tema dell'oggettività nel giornalismo mi ha sempre interessato particolarmente perché d'accordo oggettivi lo si continua a dire oggettivi proprio nel vero senso del termine forse non lo si può mai essere si può riflettere su come farlo nel senso nel momento in cui riporti una vicenda ad esempio nel momento in cui fai cronaca il tuo obiettivo si è cercare di riportarla nel modo più reale possibile con una corrispondenza più possibile azzeccata con quello che effettivamente è successo però inevitabilmente comunque lo vediamo anche con le grandi testate giornalistiche quale si può considerare non con un certo panorama valoriale dietro e quello per usare un eufemismo sì no è normale esatto le diverse posizioni anche politiche che si trovano dietro dietro le riviste dietro cioè anche anche noi che cerchiamo di fare molta insomma una comunicazione piuttosto imparziale comunque su certi aspetti un'idea di come la pensiamo dietro emerge secondo alcune quindi secondo me non è del tutto sbagliato cioè è giusto che ci sia perché è quello che dicevamo valoriale ma perché è una persona cioè il giornalista è una persona certo siamo persone ciascuno con le sue idee ciascuno con le sue e anche avere diciamo così essere proprio delle tabule rase senza pregiudizi inteso proprio in senso pregiudizi cioè giudizi che si formano prima o preconcetti è difficile io penso che la cosa qualcuno direbbe impossibile la cosa onesta che possiamo fare proprio scientificamente parlando vi dico questa cosa qua ormai è provato assolutamente certo ma qualcuno diceva già che possiamo fare è però esserne consapevoli cioè allora quello che sto scrivendo è quello che io ho visto o è quello che io penso e quindi dare per rispetto nei confronti del lettore la chiave per capirlo e quindi l'etica la deontologia ci chiede appunto che noi siamo liberi di esprimere ovviamente secondo la Costituzione è il nostro pensiero in qualsiasi forma siamo come giornalisti tenuti a dire a essere aderenti alla verità e a far sapere al lettore quando quello che stiamo scrivendo è quello che abbiamo visto o quello che pensiamo noi riguardo a un determinato argomento questo non sempre viene fatto cioè a volte è subdolo no questa differenza la deontologia giornalistica chiede di rispettare questa è sempre una questione di etica alla fine di etica delle persone dell'etica del gruppo uno si dà delle regole e cerca di rispettarle a proposito di questo mi hai fatto anche riflettere su quello che dicevi prima riguardo al futuro del giornalismo anche in termini di lavoro perché io faccio parte dell'associazione Lombarda giornalistica il sindacato dei giornalisti e mi vergogno perché veramente la situazione è tragica nel senso che ormai al sindacato non crede più nessuno gli iscritti sono per la maggior parte pensionati cioè sono giornalisti che sono lì e sono dentro nel consiglio io sono la più giovane figuratevi tanto per darvi un'idea e quindi questo è un grosso tema è un grosso tema perché se io voglio fare il giornalista e voglio vivere di giornalismo in questo momento non lo posso fare è difficilissimo cioè a meno che hai qualche intratura speciale in qualche redazione ma altrimenti fai il collaboratore vieni pagato a pezzo tendenzialmente poco tendenzialmente molto poco quando si ricordano ecco quindi i freelance sono comunque sempre delle figure fondamentali perché senza i freelance i giornali non si fanno e tantomeno anche le le i tg piuttosto che i radiogiornali quindi è un tema molto importante purtroppo però devo dire che in questo c'è anche scarsa fiducia nell'istituzione come per esempio può essere l'ordine dei giornalisti che dovrebbe tutelare anche queste modalità di lavoro e sento non so poi magari me lo confermi che questo senso di sfiducia porta comunque i più giovani che vogliono scrivere a crearsi loro delle piattaforme indipendenti per poter poi però resta sempre il fatto che queste piattaforme si devono autofinanziare esatto e quindi è un cane che si morde la coda è un cane che si morde la coda quindi è un problema importante e non si devo essere onesta in questo momento non ci sono molte soluzioni all'orizzonte gli editori tendono a non sostituire le persone che vanno in pensione le redazioni diventano sempre più scarne quindi ci sono sempre meno persone fisse e la qualità ahimè dell'informazione ne risente perché se tu non hai la possibilità di seguire un servizio di approfondire come giustamente dicevi prima un argomento ci vuole tempo ci vuole tempo ci vogliono risorse e se tu non hai il tempo di farlo logicamente scriverai meno 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 in maniera più approssimativa avresti potuto fare quindi è un grosso tema quello del lavoro mi fa piacere che voi l'abbiate toccato sì 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 è stato un po' trasversale cioè la questione del lavoro abbiamo per esempio fatto vedere un documentario di Laura Carrera e Luca Quagliato sulla questione dei rider abbiamo fatto vedere un documentario che è stato presentato ai dig di Modena che sono un altro festival e che siamo in buonissimi rapporti con Filippo Di Salvo che è uno dei due organizzatori che ha presentato il documentario che era un po' sugli effetti del cambiamento climatico e del caldo estremo sulle condizioni lavorative in giro per il mondo e sì diciamo che è una cosa che abbiamo che ci sta molto a cuore abbiamo toccato e all'interno di quella tavola rotonda abbiamo anche evidenziato la questione del va bene lo trattiamo da diverse angolature in diversi ambiti lavorativi cerchiamo di parlarne anche all'interno di quello che teoricamente dovrebbe essere il nostro campo e sì sì no ma io condivido cioè quello che dicevo anche prima chiaramente uno crea fuori fuoco anche perché in un certo senso vuole avere la possibilità di sperimentare e dire va bene cerchiamo al di là di mezzi tradizionali di fare qualcosa che possa essere innovativo e che possa come dire reggersi sulle proprie gambe anche se è una cosa molto complicata molto molto complicata poi se posso dire io non credo molto nei progetti che fanno un po' i recinti no solo under 35 solo over 35 solo nati in Lombardia solo cioè io nella mia così visione ideale utopistica forse io penso che la redazione più bella sarebbe quella in cui ci sono i sessantenni cinquantenni di tutte le età perché quella sarebbe davvero una redazione che funziona perché così io imparo qualcosa da chi ha un linguaggio più fresco più giovane più immediato che ha contatto con una realtà che io non posso conoscere bene e chi è più giovane può magari imparare delle tecniche delle oppure anche vedere cosa è stato già fatto su una certa cosa e prendere spunto e poi ci sarebbe comunque un confronto che fa sempre crescere ma questa è una mia visione l'idea l'idea platonica mi faccio una domanda doppia rimanendo sulla modalità il festival in giro secondo me in Italia ma anche un po' in generale ritornando a quello che diceva adesso Katia ci sono tantissimi comunque ho in mente un sacco di sono diventati famosi tramite i social comunque di testate giornalistiche se possiamo chiamarle così che sono diventate anche molto grandi che hanno iniziato a fare un sacco di festival e allora vi chiedo voi fate organizzate appunto festival una piccola parte proprio tutto nel vostro piccolo e questo si ricollega anche a quello che magari poteva uscire prima rispetto al pubblico secondo voi perché la modalità del festival in questo momento è una modalità che funziona che funziona nel senso che viene proposta così tanto spesso perché aggiungo un altro pezzo e perché a parlare esatto doppia e perché a parlare proprio di informazioni di giornalismo cioè oggi un po' è stato già detto in maniera un po' un po' velata però perché a parlare proprio di giornalismo informazioni oggi con tutte le cose che ci siamo detti in questo questo tempo giusta domanda allora secondo me perché hanno successo perché le persone hanno ancora voglia di vedersi di persona di incontrarsi di confrontarsi fisicamente non soltanto virtualmente e perché la tendenza di molte testate penso per esempio a una che funziona molto bene che è solo online come il post è quella di creare la comunità dei lettori quindi quindi a far in modo che il lettore possa essere sentirsi parte di un progetto di una comunità non soltanto il lettore che diciamo passivo della testata e poi anche perché rispondo all'altra tua domanda comunque siamo talmente in overload informativo che abbiamo comunque bisogno dei punti di riferimento cioè abbiamo bisogno di giornalisti seri professionisti che ci dicano ancora come poter distinguere una bufala dalla verità come semplicemente attraverso la loro esperienza e abbiamo bisogno di ascoltare i giornalisti che vogliono diventare giornalisti e capire come possiamo aiutarli nell'evolversi della professione quindi questo si può fare solo incontrandosi poi io apprezzo molto la modalità del punto del festival perché poi correggetemi se sbaglio ma mi pare che sia da un certo punto di vista un po' informale nel senso che c'è proprio il fatto di non avere anche numeri così stratosferici qui non avere 5.000 10.000 persone cioè anche farlo ho in mente anche alcuni alcuni tipo il festival del giornalismo che ho visto alcune immagini ho visto una registrazione di di un giornalista che è andato a fare le propaganda live di Diego Bianchi che è andato a raccontare il loro modo di fare giornalismo ed è un modo che a me particolarmente piace molto ma proprio perché cerca di raccontare e tra l'altro si basa un sacco sui podcast assolutamente e lui raccontava ed era 200 300 400 persone ma proprio forse per questa cosa qua del contatto con diretto sì io condivido molto cioè secondo me c'è quest'idea di cioè in una società in un periodo in cui va molto cioè per motivi strutturali dalla disintermediazione perché ci sono i social network perché c'è un insieme di fonti che possono mandare in confusione cioè l'idea di un contatto umano l'idea di un contatto umano anche con la persona che scrive e che tu vedi e che è in carne e ossa perché poi c'è anche questa cosa che può provocare anche uno straniamento perché io sono abituato a leggere qualcuno chi è quella firma chi è quella firma conosciamo a quella faccia lì allora a quella faccia esiste veramente esiste veramente no e sì io credo dipenda molto da cioè effettivamente c'è c'è stato un proliferare di di festival non solo giornalistici in giro per l'Italia non solo anche dopo la pandemia probabilmente questa questa spinta inflazionistica dipende anche dal fatto cioè che per un paio d'anni siamo dovuti stare chiusi in casa e quindi poi si è avuta la possibilità di incontrarsi di persone è tornata la voglia di farlo faticosamente perché è faticoso però insomma c'è c'era la volontà ma noi per quanto riguarda quello che facciamo noi vogliamo fare noi cioè noi concepiamo il festival anche un po' come una parte del linguaggio no che cerchiamo di portare all'interno della professione nel senso che noi abbiamo sempre avuto la voglia di raccontare i lavori degli ospiti e dei formatori che ci sono stati nella prima tranche diciamo di fuori fuoco anche i nostri alla cittadinanza perché cioè da sempre pensiamo che sia fondamentale costruire dei momenti di dialogo che vadano oltre o la carta stampata o l'online o il social no e quindi cioè io per quanto riguarda noi al diare delle tendenze generali la considero proprio parte integrante di quello che vogliamo fare di come vogliamo portare un apporto trasformativo ecco mettiamola così cioè abbiamo sempre avuto questo approccio all'evento e al dialogo collettore semplicemente il festival fa un po' da collante da collante da collettore e il vostro pubblico in questi due anni visto che è stato un po' introdotto prima al tema dai così in cinque minuti il pubblico generale di Glocal che poi è un festival molto grosso dura parecchi giorni lo è organizzato da Varese News che è un portale che è stato il primo portale di informazione solo online a diventare a fare numeri da diciamo da nazionale molto bravo e quindi ci sono una miriade di incontri sempre tantissimi il pubblico varia di età dai più giovani ai più anziani la maggior parte sono giornalisti scritti all'ordine che ahimè spesso in modo puramente strumentale vengono per avere i famigerati crediti formativi ma che poi per fortuna hanno anche l'occasione di ascoltare davvero delle testimonianze molto interessanti è lo stesso Luca Soffri il direttore del post è uno degli ospiti quasi praticamente fissi l'anno scorso c'era anche Mario Calabresi insomma comunque dei bei nomi e il pubblico quindi è vario sarebbe bello che essendo aperto a tutti fosse molto più partecipato sicuramente è un è un evento importante di confronto di riflessione manca la parte che invece fuori fuoco giustamente considera importante che è quella di un confronto un pochino più così serrato nel senso di coinvolgente di così di ingaggiante ecco non soltanto vado lì ascolto la mia lezione poi me ne vado non solo la lezione frontale ma anche qualcosa di un po' attivo questo purtroppo è secondo me una delle pecche di questo un incontro in particolare di quest'anno che ti è rimasto in mente visto che già Riccardo ci raccontava qualcosa degli incontri che hanno fatto a Fuori Fest per quanto riguarda Glocal ma è stato comunque interessante sentire è sempre interessante sentire Luca Soffri e perché mi ha comunque fatto comprendere come non bisogna perdere la speranza in questo mestiere cioè perché io confesso che ho avuto dei momenti molto di disincanto di sfiducia di stanchezza e invece no invece bisogna comunque provare a rimboccarsi le maniche e cercare di credere appunto ancora nell'importanza culturale del giornalismo perché il giornalismo fa cultura i giornalisti li chiamano gli operai della storia perché sono quelli che mettono insieme i pezzettini che poi diventeranno il grande racconto della storia e quindi ecco questo sicuramente mi ha colpito e l'anno scorso anche l'anno scorso è stata un'edizione molto bella quella sul limite ci sono stati tanti bei momenti di confronto mi ha colpito molto ma per un'altra ragione un intervento sull'intelligenza artificiale e il giornalismo che si puliafito e poi c'era anche un l'hanno chiamato anche noi lo stesso Calabresi che ha fatto ci ha dato un po' non ci ha risposto poi ci ha risposto in realtà però avevamo già chiuso il programma Alberto quindi hai detto insomma no nel senso che è il futuro ma un po' mi angoscia nel senso questa idea appunto che un algoritmo possa per esempio recentemente un giornalista che scrive di automobili una testata che fa le recensioni degli automobili mi ha detto che lui ha provato a far scrivere a ChatGPT un'esperienza di guida di un'auto non chiedetemi quale modello perché non me lo ricordo assolutamente però lui ha detto che è rimasto sbalordito perché era perfetta cioè era perfetta però io ho pensato sì però non era la tua esperienza cioè non era la tua che sei salito su quella macchina hai provato a guidare non era la tua quindi forse sta lì no la differenza che alla fine magari quella del giornalista in sé non è così perfetta ma è anche ma è più autentica no non lo so sì sì è un tema che mi angoscia si diceva futuro quindi sul pubblico non ci hai risposto sul pubblico scusami allora non c'è molto no molto speculare nel senso che voi collaborate anche con le scuole sì nel senso che abbiamo fatto una proiezione di un documentario con con dei ragazzi della Ciceri no anche lì avremmo voluto estendere a varie scuole ma siamo arrivati tardi siamo arrivati tardi no e poi adesso anche avvieremo un piccolo progettino all'interno sempre della Ciceri perché è molto partecipativo però comunque cioè quello che abbiamo riscontrato anche facendo un po' cioè una riunione di restituzione sul festival è stato che facciamo un po' fatica a uscire dalla nostra bolla però insomma è abbastanza normale immagino anche quando si fanno dei numeri molto alti però insomma diciamo che noi cerchiamo però di costruire degli incontri in cui il pubblico sia una parte integrante poi è chiaro alcune volte ce la fai di più alcune volte ce la fai di meno perché far vedere un documentario e far sì che il pubblico sia parte integrante cioè gli fai fare le domande però cosa puoi fare di altro però per esempio secondo me una delle cose migliori che abbiamo fatto quest'anno e che ci ha lasciato veramente a bocca aperta è stato questo laboratorio che abbiamo fatto con due attori Miriam Fieno e Nicola Di Chio che si occupano di teatro documentario utilizzano molto anche diciamo il video in presa diretta nel momento in cui recitano e si occupano molto di teatro di impegno civile hanno parlato molto per esempio della diaspora egiziana dopo il 2011 hanno uno spettacolo su questo della guerra in Siria e li abbiamo coinvolti perché volevamo cercare un po' di ibridare linguaggi e cercare di capire sapendo che loro avevano già un background diciamo di impegno civile su tematiche comunque di questo tipo come costruire una narrazione su Como e sulle migrazioni a Como avvalendosi però della loro modalità e l'abbiamo fatto questa attività laboratoriale con il pubblico che poi ha dovuto costruire una narrazione dopo diciamo un esercizio di di rottura del ghiaccio e sono venute fuori delle cose veramente veramente belle che non ci aspettavamo cioè è stato un po' un salto un salto nel vuoto perché non sapevamo dove saremmo arrivati però è stato molto bello e chiaramente poi cioè questa cosa la si può fare anche se si ha uno spazio che non è molto grande dei numeri non grandissimi però cioè è stata veramente una cosa che vorremmo anche sperimentare di più in futuro molto molto bella quindi vabbè ripeto numeri non altissimi ma comunque dignitosi per una città come Como però una grande partecipazione quindi siamo molto contenti di questo si parlava quindi prima di futuro di speranze future e quindi poche avete no non partiamo così no dai per un po' per entrambi entrambi festival ci sono progetti per il futuro c'è qualcosa in particolare su cui già si sta lavorando voi dall'interno di di fuori fuoco piuttosto che tu Katia con il CSV insomma diteci voi non ancora nel senso che poi quando arriverà diciamo la famigerata il filo rosso del titolo del festival cominceremo a ragionare su quello che sarà però c'è comunque si andrà avanti insieme sì si andrà avanti si andrà avanti insieme anche a me piacerebbe tra l'altro pensare anche a fare dei laboratori un pochino più laboratori di giornalismo ecco questo è anche un altro delle mie desideri chissà magari l'anno prossimo riuscivo a farli noi cioè l'idea con fuori cioè l'idea di fuori fest è cercare di renderlo un po' un punto di riferimento a entrano di questo circuito di festival giornalistici che che fioriscono in giro per l'Italia adesso insomma con fuori fuoco siamo un po' in una fase di ragionamento collettivo su che cosa vogliamo fare cosa vogliamo diventare cosa vogliamo fare da grandi tutte queste cose qua perché come dicevo all'inizio siamo nati con un progetto temporaneo che doveva durare un anno siamo al quarto quindi insomma è arrivato un po' il momento di capire anche burocraticamente perché al momento rimaniamo un gruppo informale che poi anche cioè per esempio il festival l'abbiamo costruito appoggiandoci a un'altra associazione che ringraziamo molto che è Arci Millennium 82 che ci ha dato una grande mano e poi partecipando al bando Youth Bank diciamo di quest'anno e l'idea comunque è riprodurlo l'anno prossimo cercando di capire in che modi in che modi farlo l'altra cosa però e mi ricollego a quello che dicevo prima è cioè noi non ci fermiamo con l'idea di rappresentare plasticamente o comunque cioè portare nel mondo reale ciò di cui scriviamo ciò di cui parliamo ciò di cui ci occupiamo e quindi sicuramente ciò che faremo in futuro sarà fare degli eventi durante l'anno che idealmente sono dentro Forifest ma sono più direzionati ecco post Forifest ci sono già delle cose in ballo che però non vi posso dire non vi posso dire per scaramanzia poco prima del festival però per esempio abbiamo fatto un incontro sulla Palestina con con la madre di Vittoria Rigoni e Giliaberetta che è venuta a parlarne e con una nostra diciamo redattrice che ha pubblicato un pezzo su Altra Economia su perché è stata prima di questi giorni tragici è stata in Cisgiordania parlando con degli attivisti che fanno ecoresistenza pacifica contro l'occupazione delle terre in Cisgiordania e quindi insomma abbiamo ed è stato molto partecipato insomma abbiamo fatto a Como magari questo tu dici può essere un tema che si può approfondire anche prossimamente vedendo non si può dire nulla non si può dire nulla in realtà andremo verso altri lidi ma non vi ho detto niente bene direi che possiamo ringraziare Katia ringraziamo Riccardo mi invitiamo a seguire Forifest sulla loro pagina Instagram Forifuoco Forifest sono due differenziate c'è anche un sito Facebook lo aggiorniamo poco però se volete no vabbè Glocal ha un suo pagina dove possiamo seguirlo e poi mi potete leggere su Diogene e seguire l'attività quello è sempre diciamo Glocal è una volta all'anno Diogene è per sempre si spera continua durante tutto l'anno forse per Riccardo ringraziamo grazie per la disponibilità per quello che avete raccontato ci invitiamo a seguirci sulle nostre pagine Cavatappi Podcast su Instagram ascoltarci Google Podcast YouTube Spotify Amazon Music grazie a tutti ciao grazie a voi ciao ciao Grazie a tutti